Buongiorno a voi. A differenza dell'estate dell'ultimo decennio, da giugno ad oggi si è avuta una sola breve ondata di calore, in pratica dal 30 luglio al 2 agosto scorso. Quindi nella sua normalità, che riporta la memoria all'estate di qualche decennio fa, quella del 2020 non è stata finora un'annata particolarmente calda e afosa. La primavera è stata asciutta e solleggiata, con piogge però sufficienti e anche ben distribuite. Rarissime sono state le grandinati precoci, che quindi non hanno causato danni sostanziali. Dal punto di vista sanitario, complessivamente non si registrano attacchi di peronospora, mentre vi sono stati alcuni danni, anche forti a livello localizzato, da parte dell'Oidio. Negli ultimi giorni poi sono divenuti evidenti i danni dal mal dell'esca, patologia sempre più importante in Toscana, mentre è ancora più preoccupante l'insorgenza di focolai di filossere a gallecola, soprattutto su San Giovese, varietà che risulta particolarmente sensibile all'afide. Venendo un po' ai territori principali, nel Chianti Classico si registra oggi un ritardo fenologico quantificabile intorno ai 6-7 giorni e anche una stima di lieve riduzione delle produzioni, in pratica un 5-10% in meno, in particolare per il San Giovese. Mentre su altre varietà la produzione più o meno è nella media pluriennale. Nella comprensoria di Montalcino si stima di raccogliere un'annata più o meno nella media, che potrebbe però essere importante dal punto di vista qualitativo, soprattutto se le escursioni termiche registrate finora, si ripeteranno anche nelle prossime settimane. A livello fenologico anche a Montalcino siamo indietro di qualche giorno, la produzione è, come detto, su livelli medi pluriennali e la raccolta partirà da fine agosto con le varietà a bacca bianca per poi concludersi oltre metà ottobre con i San Giovesi base del Brunello. Anche nella vasta area della Marem si registra una leggera flessione produttiva, anche a seguito in questo caso di alcune gelate tardive. Qui invece la maturazione è in leggero anticipo e potrebbe addirittura iniziare da dopo ferragosto con le varietà più precoci. Relativamente alle altre varietà nella costa toscana, soprattutto nelle aree da Vermentino, si registra infine un leggero aumento di produzione. Quindi ecco per riassumere, siamo di fronte ad un'annata che ci riporta un po' indietro nel tempo, ma che finora non ha fatto registrare grandi problemi dal punto di vista produttivo. Quindi leggera riduzione della produzione e qualità potenzialmente elevata. E con questo è tutto. A voi per avere le informazioni dalle altre regioni. Grazie a tutti.